Ciao, sono Carlo Muraglia, oggi proverò a imitare un personaggio, spero che vada bene. Troppo forte, un sacco bello, che solitamente si lava con acqua e sapone e mette molto bovotalco. Pensate un po', ha perso sette chili in sette giorni e ha mandato il viaggio con papà ed il pazzo di Iris Brown. No, lei non sa scrivere dei testi normali invece di usare i titoli. Un po' di fantasia. Vediamo chi è, vediamo chi è. Entra. Cos'è questo? È un animale. Che nessuno, peccato? Sì, siamo qui, guardi. Ah, buonasera, stavo cercando mia moglie. Sì, ma non guardi noi da questa parte, guardi la telecamera. Scusi, ci sono certe volte qualche cosa un po' particolare, non vorrei sembrare un po' troppo pignolo. Scusi. Senta, stavo cercando mia moglie Magda perché dobbiamo andare a Roma a votare, ma purtroppo... Noi che ne sappiamo. Ma mi sa che è scappata tanto tempo fa. Ma è impossibile. Ma questa cosa è veramente altamente improbabile. Ah, guardi, io sono una persona veramente corretta, davvero onesta. Guardi, veramente, io incastrano tutti gli impegni come se fosse un mosaico, deve sembrare un po' troppo, né più né meno. Guardi, addirittura io sono così preciso che chiamo pure l'ACI per sapere le informazioni. Ve lo faccio vedere subito. Ma noi abbiamo capito perché scusa, lei rispondi ancora l'ACI? Certo, lei è che sta chiamando. Ah, sta chiamando? Sì, 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 sentiamo. Pronto, parlo col servizio per corribilità a strade? Sì. Ah, senta, io sono un socio ACI. Il numero di testa era 91 76 55 barra Ucchi, come Udine Torino. La contattavo per alcune deciludizioni, dato che mi devo recare a Roma a votare. Ho sentito dal bollettino dei naviganti che è in arrivo un'area depressionale di 982 millibar. E questo mi è sempre confermato da un fastidiosissimo mal di testa che ogni qual volta aggiunge un drastico fallo di pressione. D'altro canto, caro amico, questo è il prezzo che dobbiamo pagare noi meteoropatici. Senta, ma vuole sapere, partendo tra circa tre minuti e mantenendo una velocità di crociera di circa 80-85 km orari, secondo lei faccio il tempo a lasciarmi la perturbazione alle spalle nei pressi di Parma? Senta, ma perché non va a cagare? Pronto? Ah sì, pronto? È caduta. Che strano, deve essere caduta la linea. Sì, stranissimo. Beh, comunque, come si dice, fa il bene al prossimo, non lo fare mai. Ma vada, ma se ne vada. Ma voi mi adorate? Ma vada via. Allora, non vedete che la cosa è di più forza? Non ce ne può fregare di me.